La ricotta è sempre sintomo di corna, tradimenti e i maschietti ne sanno qualcosa Non voglio che sia un video di merda Mmm... ci siamo scopati Era... un brutto cazzo Così sembra che sia un cazzo di merda No, però è stata davvero... è stata la filca più importante della mia vita E anche tipo... brucco di oca Allora Giug, perché non hai fatto video per quasi un mese? Stavo a co... brucco, non c'è nulla di male Avete presente quando ogni cosa che scopate nella vostra vita del cazzo perde di cazzo? Aveva perso di cazzo? Smetti di fare senso con le persone che ti stanno attorno Sono... scusate, sono un pochino brutto In realtà questo video era solo per dire che ci siamo scopati Però vabbè, così è la filca, no? Questo è forse il brutto di fare un lavoro come YouTube Cazzo ci sta Ultimamente mi stavano arrivando migliaia domande riguardo a che fine avesse fatto la filca L'ho fatta a pezzi e messa nel frigorifero Comunque... Ehm... 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 Ehm...